La settimana scorsa è andata deserta anche l'ultima, l'ennesima, asta per il grande cantiere di via San Sovino e via San Marco Mestre, con i suoi cento alloggi mai finiti dalla ditta Protec, che aveva avviato i lavori nel 2009, con il cantiere abbandonato oramai dal 2013 e trasformato in dormitorio clandestino dagli invisibili. Il degrado è visibile sotto gli occhi di tutti, a cominciare da questa casetta prefabbricata, chiamiamola così, un tempo luogo di sosta degli operai e adesso invece vediamo con le nostre telecamere diventato un luogo di ritrovo di sbantati, addirittura il loro giaciglio. Appartamenti che avrebbero dovuto essere realizzati grazie alla permuta che ha consentito al comune di acquisire Villa Erizzo, oggi biblioteca civica della città. Stanco di tanto degrado, prende parola anche il parroco di San Giuseppe con la sua proposta al sindaco Brugnaro, cambiare la destinazione d'uso residenziale, dice. Sta cambiando la città intorno a San Marco, pensiamo a tutto quello che succede nella zona di via Torino con lo sviluppo delle attività universitarie, quindi col bisogno che c'è di residenza non solo per gli studenti, probabilmente anche per il personale addetto e per i docenti. Spacciatori delinquenti sbandati, stroncati dagli stenti, dalla sfortuna ma anche dall'alcol, vivono qui oramai abitualmente. E vediamo come a distanza di poco meno di un mese dal nostro ultimo servizio le cose siano rimaste esattamente tali e quali, con il guardrail ancora buttato a terra come è stato fatto da chissà chi e non è stata neanche transennata la zona, almeno per far vedere che la cosa non restava nell'immobilismo e nell'indifferenza più totale. Per Don Natalino è necessario terminare i lavori anche per ridare vitalità economica al viale San Marco. Quindi sarebbe bello e interessante se chi ha la possibilità pensasse di acquisire questo immobile per dargli una destinazione che sicuramente fa vivere il quartiere, perché per dirlo con una battuta anche gli studenti universitari poi comprano pane e latte o qualcosa che gli serve per tutti i giorni, quindi il quartiere ne avrà beneficio. Grazie.